I capelli, altro problema che molta gente si fa quando viene qui in Repubblica Dominicana a vivere. Dove ci tagliamo questi capelli? Naturalmente di qua, dal nostro caro amico. Come, 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 come. E' il nome José, perugueros e calià, perugueros e calià, perugueros e calià. E' la prima cosa che fa quando viene qui in soledà. Re goganta, te quiere, mi negra. Aitè, me quiere ver margar. Re goganta, te quiere, morena. Aitè, me quiere ver costar. Giorgoyas, guay... Il corso, corso davanti lo mando. Gossa mamami con la salita in nubia. Ho lavorato in Alemania, 8 anni, in Holanda 3 anni, in Venezuela e qui ora. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.